Il Corpo svolge tante attività sia sul fronte della tutela delle entrate che della tutela della spesa pubblica che della lotta alla illegalità economico-finanziaria e del contrasto ai traffici illeciti. I numeri sono importanti e queste sono le occasioni in cui in effetti viene fatto un bilancio. Un impegno che continua, prosegue, con rinnovato slancio, a maggior ragione adesso che sono partiti i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verso cui è massimo il livello di attenzione. Stiamo lavorando e ci sono tante attività che vengono svolte in collaborazione, in perfetta sinergia e collaborazione con tutte le altre forze di polizia. La squadra Stato è la parola magica, lo strumento vincente che permette di moltiplicare la forza per portare legalità in un territorio che la chiede a gran voce.